E quindi dovrei accompagnare, diciamo, uno dei momenti più belli, dovrei accompagnare i bambini dal Papa con le loro sorprese e vi assicuro che se ne stanno aggiungendo tante di sorprese. Noi inizieremo allo Stadio Olimpico alle 15, insomma facciamoci trovare. Abbiamo avuto la possibilità di far mettere anche le persone lungo la pista, i bambini lungo la pista, quindi iscrivetevi ancora perché abbiamo recuperato 4-5 mila posti in più e quindi permetterà al Papa, quando arriverà allo Stadio Olimpico, di trovare questo grande cordone di bambini. Abbiamo insistito e abbiamo spuntato con Sport e Salute, che ringrazio pubblicamente perché si stanno facendo carico davvero di tanto sforzo. E poi ci sono tante sorprese, ci sarà Renato Zero, per i bambini ci sarà, adesso io non so bravo, Matti, Enni e Matti si chiamano, hanno partecipato con Antonella Credici al concorso Voice Kids, quindi vi aspettiamo davvero in tanti. E poi Carlo Conti condurrà, ci sono tanti volti, c'è Albano, c'è Orietta Berti, ma soprattutto c'è i ragazzi del Cirque du Soleil che faranno un po' di magia, sarà splendido. E poi la partita di pallone dove vedremo Papa Francesco, insomma, non dico giocare a pallone perché, insomma, però tirerà questo caccio d'inizio, ci sarà Buffon, Del Piero, tanti giocatori, Carlos Alberto, e quindi vi aspettiamo, andate sul sito, almeno per avere contezza dei numeri, giornata mondiale dei bambini. Allora io porto la mia Carlotta. La devi portare, la devi portare. Io dico alle famiglie portate i vostri nipoti, i vostri figli, perché gli farete assistere a qualcosa di indimenticabile, indimenticabile. Poi iscrivetevi a questo sito, giornatamondialedeibambini.org, per portare appunto i vostri bimbi. Sì, sì, no, portateli perché gli regalate un sogno, gli regalate un sogno. Vedremo anche le 101 delegazioni del mondo vestite in abiti tradizionali che sfileranno lungo la pista, sarà qualcosa di bellissimo. E poi, per chi vuole ancora domenica, piazza San Pietro, piazza San Pietro, alle 10 la messa con il Papa, e alla fine il monologo di Benigni. Roberto Benigni, un monologo di 20 minuti. Io so che sta preparando qualcosa anche qui, insomma, che il mondo sussulterà, perché lo conoscete, insomma, io lo chiamo fratello Roberto. Grazie. Come ci sorprenderà. Quindi vi aspettiamo davvero per due giorni indimenticabile. Chi è indeciso, venga, rompa gli induci e venga, rompa gli induci e venga. Comunque, come c'è trascina, padre Enzo? No, è un trascinatore, è vero. C'andrei adesso allo stadio lì, esatto, capito? Anche se è vuoto, c'andrei ora. Adesso, grazie padre Enzo, grazie. Allora, tutti i giorni poi inviteremo il nostro pubblico a iscriversi in questo sito e poi ci sarà il sabato mattina una giornata bellissima insieme. Ricordiamo anche che ci sarà una lunga diretta sul Rai 1, con il TG1 e il Rai Vaticano, insomma, una lunga diretta, sia il sabato che la domenica. L'aspetto, giornata mondiale di bambini.org. Ma Paola, diciamolo insieme, il Papa vi aspetta. Il Papa vi aspetta. Il Papa vi aspetta. Il Papa, Padre Enzo, io immagino te che ottieni la pista perché non ti si può dire di no. Cioè, hanno ceduto alla fine. Hanno ceduto, sì. Ecco, poi hanno ceduto. Grazie, grazie. Grazie, Padre Enzo. Bravo, Padre Enzo. Bravo. Il Papa, il Papa. Adesso andiamo in collegamento. Grazie agli ospiti che sono stati con noi. E Verardo, un abbraccio. Grazie. Grazie.